Ciao ragazzuoli belli, ben ritrovati all'interno di questo nuovo video Io sono Vapor, il Vapor Stumbler è tornato oggi Tornato oggi perché? Perché come avevo promesso nei video precedenti A proposito, se vi li siete persi, li trovate nelle schede cliccabili qua in alto Andiamo a parlare di gettoni stumble, di stumble coins Insomma un po' di questa valuta che già all'interno dei vari video che vi ho fatto in precedenza Avevo citato, avevo piacere di portarvi un video a riguardo Prima dell'inizio del video mi raccomando voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate like Vi ricordo gli appuntamenti, ci vediamo domani alle 14 qua sul canale, tutti i giorni insomma alle 14 E oggi pomeriggio in live, quindi tanta tanta roba, ci sarà il big ritorno Prima dell'inizio del video ti ricordo ancora, vatti, vammi a seguire su TikTok e Instagram Trovi i link qua sotto in descrizione e successivamente se ti va puoi anche abbonarti al canale Sempre tramite il link che ti ho lasciato qua sotto in descrizione Dove puoi farlo addirittura gratuitamente, quindi attenzione, le grandi offerte del VAP Stumble, stumble, stumble Prima di parlare di gettoni stumble, che sono questi aggegioni qua, gettoni stumble E come si fanno ad ottenere, come fare, come non fare Facciamo un attimo una partita, voglio fare una partita per andare a riscaldarci un attimo Per vedere un attimo come siamo messi, se riusciamo a fare qualcosa, se non riusciamo a fare qualcosa Una partita giusta così, tanto per provarla Ci capita tilefall, che in realtà è una mappa che io non sono un grande amante di questa mappa Se proprio devo essere sincero, ma ci proviamo a fare del nostro meglio Non so come, caspita, è possibile quello che è successo in questo momento Ho azzeccato effettivamente tutto È il che è abbastanza particolare Ciao! Attenzione Non so come sia possibile, ma siamo riusciti a qualificarci senza nessun tipo di problemi Non siamo mai caduti, siamo andati dritti come dei treni e siamo riusciti a qualificarci Molto molto bene, siamo nei primi sedici, quindi passiamo automaticamente alla seconda fase Che è quella dove, che se andiamo a vincere, poi siamo anche in finale Quindi qua inizia ad essere abbastanza dura come situazione Ma non impossibile, perché vi ricordo che il VAP ha delle tecniche nascoste Che poi sfoggia alla fine, insomma Tenetevi pronti perché ne vedrete delle belle all'interno di queste partite del VAP E se volete vedere il continuo delle partite, le trovate come al solito Tutti pomeriggi all'ore 17 Super slide Corri verso l'arrivo Ok, perfetto, allora Il Vapor prende Ta-da-da-da-dans Allora No, 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 ok Erroraccio questo Sì, però va bene No, non va bene, non va bene, non va bene Porcaccia la porcaccia Non riesco, ho perso il timing, ho perso il timing Ok, non l'ho perso Ho recuperato, potrei fare un gran recupero Ma devo fare veramente un qualcosa che è abbastanza impossibile da fare Siamo effettivamente saliti dentro questo Non è male Ah, devo cercare di fare il miracolo qua Ma sarà bella bella dura Ecco, questa qua sicuramente non è la tecnica per fare il miracolo Anzi, questa qua è la tecnica per perdere ancora di più Quello che forse avevi fatto di buono Ok, attenzione che qua abbiamo fatto un buon recupero, secondo me Eh, però mi sa che l'ultimo qualificato c'è già, eh Mi sa che l'ultimo qualificato c'è già Purtroppo sì, purtroppo un bel muro in faccia per noi Non è andata troppo bene, siamo comunque saliti di livello, non è andata male Eh, direi che è il momento di parlare dei gettoni stumble Prima però andiamo a farci due unboxettini di queste ruote gratis Mi avete chiesto Vapor perché hai due ruote e non una Perché ho il pass ragazzi, quindi vi consiglio di andarla a shoppare Se vi siete persi il video nel quale andavo a shoppare Lo trovate qua in alto nelle schede cliccabili Quindi andatelo a recuperare Ottime queste dieci gemme perché ci permettono di accumularne ulteriori Perché avrò l'opportunità probabilmente di shoppare anche il prossimo pass Insomma, ce ne saranno delle belle Oh, 150 gemme, ti prego No, se mi droppava le 150 gemme Quella era una gran giocata Eccoci qua, siamo all'interno dello shop Vedete che abbiamo due valute principali Quelle verdi, che sono le gemme Che penso voi tutti già conosciate Sono delle valute che ormai sono presenti in tutti i giochi super Se io porto giochi super, sei qua sul mio canale Se schiacciamo sul tasto dei gettoni Istanbul Ci dice ottieni i gettoni Istanbul in due modi Si possono ottenere attraverso i doppioni di skin O attraverso il bonus di alcuni acquisti Come si vanno ad implementare poi questi gettoni Istanbul Allora vi faccio vedere un attimo cosa si intende con skin doppio Sostanzialmente voi siete all'interno di questa skin Aprite questa skin casuale Vi capita una skin che già avete A quel punto voi avete l'opportunità di prendere dei doppioni Una volta presi questi doppioni Voi ricevete al posto della skin Che ne avrete soltanto più una Ricevete dei gettoni Istanbul Quello che però è importante andare a capire E poi a cosa servono effettivamente questi gettoni Istanbul Ve lo vado a spiegare subito Perché non so se lo vedete Ma all'interno della sezione skin del nostro negozio Abbiamo la skin normale, la skin rara e la skin epica Per andare a comprare una skin epica Quindi una skin epica o superiore Basta schiacciare qua sopra Abbiamo anche l'1% di opportunità di una skin speciale Farò un video nelle skin speciali Andiamo ad aprire ad esempio con dei gettoni Istanbul Una ruota Nel caso ad appunto da questa ruota qua Ci capiti una skin che noi abbiamo già Ci vengono dati dei... Ok lo scheletrino molto molto bene Dry Bones è una delle skin migliori La andiamo subito ad equipaggiare Voglio farne un'altra ad esempio Voglio andare ad unboxare un'ulteriore ruota Facciamone... Voglio farvi vedere come funziona Ne andate ad unboxare un'altra Nel caso qua da questa ruota qua Vi esca una skin che già possedete Come ad esempio in questo caso il doppione Che è appunto il dinosauro blu Voi avete l'opportunità di convertire Questa skin qua che avete speso 35 gettoni Istanbul In 15 gettoni Istanbul Vi verranno quindi tolti non più 35 gettoni Istanbul Volva solo 20 perché quindi ci sono della skin doppiona Che avete ricevuto Penso di essere stato abbastanza chiaro Se non avete capito qualcosa come al solito Trovate l'interfaccia dei commenti qua sotto Che in realtà è molto molto comoda Perché avete l'opportunità di interagire con altri utenti Che sicuramente... Alcuni della mia chat sono sicuramente più Tra virgolette focus di me sotto alcune cose Quindi vi possono aiutare senza troppi problemi Questi sono i tornei che già sono finiti Insomma parteciperemo anche ad ulteriori tornei Tenetevi pronti perché ce ne saranno delle belle da fare Questa skin qua dello scheletro È anche molto 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 caruccia Vi faccio vedere un attimo il mio profilo Siamo a livello 11 Farò un video anche su come farmare più velocemente i punti esperienza Perché ho visto che ci sono alcune cose Che non sono troppo probabilmente chiare E quindi voglio un attimo chiarificarle all'interno di un video Quindi il mio consiglio è di iscrivervi Attivare la campanellina Perché non perdete nessuna tipologia di video E restate sintonizzati come sempre Fino all'ultimo All'interno del negozio avete anche l'opportunità di comprare Dei gettoni Istanbul Ad esempio se comprate il pacchetto da 7,99 Che secondo me è quello un po' più conveniente Perché con 5 euro avete 800 gemme Con semplicemente 3 euro in più ne avete 1.600 Avete un bonus di ben 75 gettoni Istanbul Valutate voi quale prendere Io vi dico secondo me il pacchetto da 7,99 Non è niente male Il video termina qua Come al solito ti ricordo Iscriviti e attiva la campanella Se non l'hai ancora fatto Lascia like a questo video Condividilo con i tuoi amici Noi ci vediamo domani alle 14 qua sul canale E importantissimo Oggi pomeriggio in live per il big ritorno Dopo una settimanella nella quale siamo stati poco attivi Causa vari problemi miei Ragazzi torniamo alla grande in live Vi aspetto ragazzi Ciao belli 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 Ciao belli